La motocicletta per l'uomo è un divertimento, un passatempo e uno spirito libero alla motocicletta. È sinonimo di velocità e quindi l'uomo ha detto perché non facciamo dei motori e dei mezzi che vanno sempre più forti e via con le corse. La motocicletta per me è un mezzo, uno dice io salgo, oggi vado a fare un giro, non ho bisogno di niente, per mezza giornata o una giornata sono libero di sfrecciare sulle strade senza nessun pensiero, libertà, velocità e passione. La motocicletta per me è un mezzo, una giornata, velocità e passione.